Io vi devo dire che sono particolarmente emozionato perché come probabilmente alcuni sanno io sono nato a Genova e Genova ricorda con le denominazioni delle sue piazze e delle vie più importanti la guerra partigiana, una guerra che è stata combattuta senza sapere se si sarebbe vinto o meno, però è stata combattuta perché era giusto combatterlo. E allora io sono orgoglioso di essere qua in una piazza che nel rispetto delle regole sulla pandemia sta dimostrando che si può dire di no perché come è stato ricordato da chi mi ha preceduto qui c'era da scegliere fra convenienza e giustizia e alcuni hanno pensato scioccamente che questa fosse la strada più conveniente, a parte il fatto che essendo nato a Genova se io proprio dovevo fare un accordo gli mandavo 10 centesimi e volevo anche in cambio un centesimo per tanti motivi, ma poi al di là della battuta qua c'è da capire una cosa, il diritto vuole che tutti quanti si sia sotto la stessa regola e la stessa legge, tutti forti e deboli e allora chi è che ha maggior interesse a far rispettare il diritto? I deboli perché altrimenti i grandi, i forti non avrebbero necessità dello Stato, loro nella giungla sono comunque forti e si mangerebbero i piccoli comunque e sempre e allora se io debbo accettare uno Stato ed è giusto che ci sia lo Stato lo debbo accettare perché faccia giustizia, tutela soprattutto dei più deboli, Egle e tutti quelli che si sono spesi anche con sacrificio personale l'hanno fatto non per loro stessi ma perché prevalga un'idea di giustizia che è quella che ha permesso a tanti partigiani di dar la loro vita per un ideale forte e qua questi, scusatemi, questi cercatori di convenienza stavo dicendo pagliacci ma non l'ho detto, non l'ho detto, questi cercatori di convenienza adesso stanno anche promuovendo una narrazione per cui non si poteva fare altrimenti sapete che cosa mi ha inorgoglito dell'essere qua? Io e Mattia ci conosciamo poco però ci siamo subito stimati prima è stato distribuito un libricino, l'arroganza del potere la si combatte con la conoscenza l'ha un parere pro veritate non dato dal fesso che vi sta parlando ma da gente che è nel Consiglio di Stato da gente che il diritto lo mastica tutti i giorni, un parere pro veritate ha dimostrato che è tutto da vedersi quello che sosterrebbero le altre parti io adesso vi lascio come è giusto però fiero di essere zenese io adesso vi lascio come è giusto io adesso vi lascio come è giusto io adesso vi lascio come è giusto